Grazie a tutti. Subito a Roberto Scaglione e alla sua rubrica settimanale Obiettivo di X. Va ora in onda, Obiettivo di X. Trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni. In studio, Roberto Scaglione. E bentrovati da Roberto Scaglione e appuntamento di Obiettivo di X di oggi domenica 6 agosto del 2017. Grazie in apertura, lo faccio veramente subito. Ai tanti ascoltatori che ci hanno inviato segnalazioni d'ascolto per la puntata scorsa, ne riparleremo fra qualche minuto. E grazie soprattutto perché crescono le nostre comunità sui social network, di cui anche in questo caso parleremo fra qualche istante. Trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Prima rubrica del magazine RWS, a cura di RWS Firenze. Diffuso in onde corte da Adventist World Radio Europe, radiovoce della speranza, emittente internazionale che ha voluto mantenere, seppur con una piccola presenza di un'ora settimanale, anche lo spazio nella nostra lingua sulle onde corte. Quindi 9.790 kHz la domenica mattina fra le 11 e mezzogiorno. Ora italiana, dopo il segnale di intervallo e l'annuncio di inizio trasmissione, alle 11 un paio di minuti. Prima rubrica è sempre l'obiettivo di...